Vi siete ritrovati diverse skin bloccate nel vostro armadietto di Fortnite? Tranquilli, in realtà non sono bloccate Con l'aggiornamento di ieri, Fortnite ha introdotto il rating Peggy anche per skin e cosmetici Oltre che per le mappe Il triangolino infatti sta a significare che quel cosmetico non è utilizzabile in mappe con Peggy 7 o inferiori Ed in queste mappe i cosmetici non adatti verranno sostituiti con i default Adesso va bene tutto però bloccare Miascolo e non Michael Myers Mi sembra un po' una minchiata